Vai, 150, al cartello di sinistra, 2 gira, 2 gira al cartello. per a re, destra 4 chiude che diventa 3 al rosso 4 chiude 3 al rosso per sinistra piena, dopo qui 50 per destra 2 gilessale 2 gilessale per sinistra 3, meno lunga 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 al cancello, sinistra 2 vai per destra 4, doppia lunga al muro diventa 4, meno lunga al muro 4, meno lunga per destra piena, dopo al muro sinistra 4, chiude e diventa 2 al bianco 2 al bianco, 30 per destra 4, chiude e diventa 3, meno lunga 30, dopo per sinistra 4, meno lunga per destra piena per destra 4, meno porta 50, al cartello sinistra 4, meno porta 50 al pallo, sinistra 4, vai al cartello sinistra 4, meno lunga tieni dosso dritto, 30 dosso dritto, 30 per destra 4, meno porta dosso dritto, 30 cartello, sinistra 4, meno lunga in destra 2, vai 2, vai qui in sinistra piena, vai 100 dosso dritto in sinistra piena, meno lunga piena, meno lunga 100 dopo per destra piena, in cima 50 attenzione, dosso dritto e di da in destra 4, meno meno taglia per sinistra piena doppia dopo 30 a re, in destra piena vai 30 per sinistra piena in destra 4, taglia molto 50 50 per sinistra 4 in cartello sinistra 4, doppia meno scende per destra piena per sinistra piena sinistra piena corta in attenzione, ritardo di da 4 meno più le due e tieni per al dentro sinistra 4 ma non meno suddosso per sinistra piena vai 100 a re, destra 2 dalle gira dalle gira 30 per in calda sinistra 2 dalle gira molto 30 per destra 2 taglia sporca per sinistra 2 a re, in destra 4 al cartello vai in destra 4 al cartello vai 50 per destra 2 per destra 4 in destra 3 più vai indosso dritto dopo indosso dritto 50 in attenzione da moto destra 4 che non lunga per sinistra 3 meno tieni in destra piena 50 per dosso dritto in destra piena 30 a re, attenzione sinistra 4 meno vai 4 meno vai 30 per destra 4 meno meno sul dosso in sinistra piena 30 per destra 4 per sinistra 4 meno meno dopo per sinistra piena per attenzione al quadro di astra 2 ci rettieni per sinistra 4 meno taglia vai 30 per destra 4 meno scende 4 meno scende per sinistra piena per attenzione per destra 3 meno lunga vai per destra 4 meno per attenzione in destra 3 meno meno tieni in sinistra 2 per sinistra piena in sinistra piena meno 50 per attenzione destra 2 attenzione destra 2 per sinistra 3 meno meno porta per sinistra 2 per sinistra 2 tieni morto in destra 3 meno meno tieni dopo in sinistra piena lunga per sinistra piena per attenzione destra 2 vai per sinistra piena dopo lunga la piena lunga per attenzione a re destra 3 meno meno tieni morto in sinistra 2 in destra piena dopo in sinistra piena vai 30 per sinistra piena 30 per dopo 30 per attenzione alle spiega in destra, 2 tieni molto 2 tieni molto sinistra 3 meno vai per attenzione, destra 3 corta, per destra 4 meno lunga 30, per molto sinistra 2 gira 2 gira dopo qui vai così per destra piena 50, per destra 4 meno lunga sinistra 4 meno, scivola scivola, dopo c'è il 100 per destra 4 più di 3 4 più di 3